Cosa significa per FBK sviluppare tecniche di intelligenza artificiale per la salute? Quello che facciamo in FBK è, grazie alla grande disponibilità di dati, cercare di sviluppare modelli che possano essere a supporto dei clinici per fornire risposte in merito ai pazienti. In altre parole, cerchiamo di costruire modelli che possano essere prognostici, diagnostici o predittivi e che possano aiutare i clinici e essere degli strumenti in più nelle loro mani per poter fornire una medicina che possa essere sempre più personalizzata e dare sempre più importanza ad ogni singolo paziente.